Musica Cioccolato, dolce o po' salato, tu gelato al cioccolato, bombaggio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato Tu me l'hai rubato, squit, 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 squit Io sono Kira, no, ho sbagliato Io sono El Comunque visto che io sono bravo Bella la scritta qui Mara non giri il bicicletta No Tu il telefono in mano Non avete visto sto mongolai cosa fa Comunque visto che Io sto lavorando pezzo di merda Tu con la tua betoniera a isola Poi la betoniera Che serve a isola una betoniera? Ma che serve una mascherina dentro in proprietà privata mia Garage, biello, con una tv grande come il culo della Lamborghini No mi dissocio Mascherina però Ma c'è lei qui la mascherina Comunque visto che la mia mod Di Dragon Ball La Super Mod No la gava la fotocamera La Dragon Ball Tenka Città Il Dragon Ball Z Tenka Città Team Super Mod Punto ISO Creata da me Se la volete Spaccarsi i vostri Perché mi serve il vostro cellulare Il capo del caricabatteri Perché dalla mia chiavetta La sposto nel vostro telefono E' fatto Visto che occupa 1,02 megabyte 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 Voglio vedere Mamma mia Fatto orario Una frenata 10 metri al secondo Perché orari 10 metri orari Quando arriva Come si vede a me No Ha frenato A un momento Sbatteva contro la vita Comunque Visto che occupa troppo La mia mod Legno Voi dovete essere Il video della serie Il fatto su Sinover Super Con qualità Visto che i miei video Arrivano a 720 pixel Al secondi Adesso arriva a 1,800 Non fare pubblicità Non fare pubblicità Quindi il video è concluso Però non è concluso Esemplare di mongoloidi in bici Ciao Ryan Ciao Ryan Ciao Ryan Aspetta che ridiminuisco lo zoom Gelato al cioccolato Dolce un po' salato Gelato al cioccolato Un bacio al cioccolato Io te l'ho rubato Gelato al cioccolato Dolce un po' salato Gelato al cioccolato Un bacio al cioccolato L'impostore della Big Bunny Gelato al cioccolato Zitto adesso proverò qualcosa di difficile A livelli Stratosbingori Ci devo andare in bicicletta col telefono Bella questa mascherina Ma un mascherino tiene Se la tengo qui Visto che Non c'è un'anima per almeno Un chilometro e mezzo No Per almeno Facciamo 600 metri Cioè mezzo chilometro Cioè a casa di Giacomo Non c'è nessuno Sì è vero che non c'è nessuno Sì la casa di Giacomo Sì è un acqua, è un aerato, è un supermario comunque ah porco dio no, non si dice si che si dice perché poco è un personaggio di un anime e anche dio è un personaggio di un anime che brando quindi non è nostro tangiro è you and time c'è un attacco ziti c'è un attacco terroristico povero lion sacri sboglia a posto di nidoria ha detto sacri sboglia non si dice il sito viola no, venite subito qua vi devo registrare hanno comprato 600 euro di Ender Dragon porco cane no, non sono sono 75 euro no 75.000 bit sono 75.000 bit sono 75 euro si 100 bit sono 10 centesimi mi sembra o erano o euro no 100 bit sono 1 euro 100 bit sono 1 euro 100 bit sono 1 euro 1 euro e 2 100 bit sono 1 euro e 2 quindi 75.000 bit 75.000 bit quanto è? 100 per 75 150 75 si sono 700 euro non so 70 euro 100 euro al massimo no l'Ender Dragon mi sembra che erano 100 euro no 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro faccio un po' ecco 7500 bit e Ravager Ravager costa 76 euro quindi se ci aggiungi uno zero diventano 700 diventa 70 euro si 75 oh 7500 bit sono no 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 7 no 7 oh 7500 porco dio no 7500 bit sono 7 euro e 50 7 euro e 6 allora adesso dobbiamo fare per 10 per 10 va a 75 euro no quindi 75.000 bit sono 75 euro quindi 100.000 bit sono 100 euro quindi 100.000 un Ender Dragon costa 75 dai stupe 500 euro quanti ne hanno sconati quanto costa Ender Dragon costava 100.000 75.000 bit 100.000 100.000 bit lo sai se metti 10.000 10.000 10.000 che sono 5 Ender Dragon faccia un po' a lei perché l'Ender Dragon quanto costa 75 100 se metti 5 sono 10.000 bit 10.000 bit quanto 5 Ender Dragon ma no così è una truffa così loro questa è una truffa noi truffiamo loro così perché se l'Ender Dragon costa 65.000 bit 5 Ender Dragon non possono costare 100.000 bit non è vero l'ho fatto per voi col cuore Maria 75x5 75x5 eh non fa mica 100 quindi è una truffa uno scam a l'estero l'estero a l'estero Autore dei sorrisi